Voglio iniziare da quella che è una semi buona notizia, perché ieri abbiamo anticipato con un tweet di Giovanni Albanese, abbiamo pubblicato qua su YouTube, in un video dicendovi di De Paul, che poteva entrare all'interno del discorso che comprende Morata, la Juventus, l'Atletico Madrid, Can, questo treccio di mercato complicato, e la Juventus avrebbe richiesto De Paul in prestito all'interno di questa trattativa, inserendo Moise Can sempre ovviamente, per il discatto di Morata. Profilo che a me piace, sinceramente, rimangono dei dubbi sulla formula, perché ribadisco, per riscattare Moise Can, ragazzi, servono più di 30 milioni di euro che dovresti rigirare all'Atletico per Morata, e allora capisco poi l'inserimento di De Paul, ma in prestito in che modo? Bisogna capire anche questa cosa. Il ragazzo, tecnicamente, non si discute, a me piace, è un profilo che piace tanto, secondo me è davvero un calciatore molto sottovalutato, che può ricoprire più ruoli a centrocampo, e può aiutare a innalzare la qualità del reparto dove la Juventus è molto carente. Quindi io sono assolutamente favorevole a un arrivo di Rodrigo De Paul alla Juventus, anche se rimane il problema legato alla sovrabbondanza a centrocampo. Ora la Juventus è l'introreste di Pagioli, dovrebbe rincontrarsi proprio in questa settimana. Bisogna capire intanto che cosa vogliono fare, perché ovviamente l'idea è rinnovare, andare avanti insieme, e questo bisognerà assolutamente metterlo sul piatto. Poi bisogna capire, rimarrà però all'interno della Rosa la Juve, punto di domanda, perché con Pogba la Juventus, se lo sappiamo, ha 12 centrocampisti in rosa, quindi bisogna prima farsi un'idea sotto questo punto di vista. Però io non posso svegliarmi la mattina e leggere che, anzi, facciamo un passo indietro, perché ultimatum a Di Maria. Io ieri vi ho detto, la situazione di Di Maria mi ricorda quella su Ares, e cioè tanto parlare di un campione che poi alla fine non arriverà. Ieri sera Romeo ha detto sensazioni negative, e gli altri giornalisti, come Giovanni Albanese, come La Gazzetta, hanno riportato un vero e proprio ultimatum a Di Maria di 24 ore, nel senso decidi se dentro o fuori, e ci sta, ci sta, perché la Juventus non può inseguire in eterno anche il Di Maria, e quindi ci sta a dargli un ultimatum, perché sennò poi bisogna cambiare l'obiettivo di mercato. Però l'obiettivo di mercato, ragazzi, principale del post Di Maria, non può, e soprattutto non deve essere, Domenico Berardi. Non può. Dato che oggi c'è un incontro fissato col Sassuolo per parlare di Berardi, ho tutti i peli dritti sulle braccia. Quello che vi dicevo, non posso svegliarmi la mattina e leggere che la Juventus, se non prende Di Maria, prende Berardi. Vi perdonatemi, è una cosa che non può essere vera. Non può essere logica. Ma mi baso semplicemente sul discorso del livello tecnico di Di Bala. Non vai ad andare avanti con Di Bala perché vuoi prendere un profilo come Di Maria. Vabbè, è comprensibile. Per quanto più vecchio Di Maria ha una storia differente rispetto a quella di Paolo Di Bala. È un giocatore differente, con una pil internazionale, anche se vogliamo, differente da Paolo Di Bala. Domenico Berardi, che cos'è? È un classe 94 che ha vissuto stagioni sulla montagna russa a Sassuolo, in una piazza normalissima come Sassuolo, e dove anche il nazionale, l'abbiamo visto anche l'anno scorso gli europei, ha fatto molta fatica, ragazzi, quando si giocava a un livello diverso. Ma soprattutto il Sassuolo lo valuta dai 30 ai 40 milioni di euro. Stiamo scherzando? Stiamo dicendo sul serio? Cioè, a questo punto, da non fan di Zagnolo, dove vi ho sempre detto boh, quella cifra su Zagnolo non la investo, se Sassuolo mi chiede 30-40 milioni per Berardi, forse ne spendo 50-60 per Zagnolo, eh? E voi direte, costa di più. Sì che costa di più. Però l'allenatore della Juventus è Massimiliano Allegri. E Massimiliano Allegri, da sempre, è stato uno che ripeteva a Pappagallo un ritornello che io condivido. Nel calcio ci sono le categorie. Allora, se devo fare una tier list, tra i campioni ci metto Di Maria, tra i giocatori molto forti ci metto Di Bala, tra i giocatori meno forti di Di Bala ci metto sia Zagnolo che Berardi. Però uno è 94, Berardi, e uno è molto più giovane, Zagnolo. Ragazzi, non possiamo assolutamente pensare di presentarci l'anno prossimo come esterno titolare a destra a Domenico Berardi. Per quanto venga da una buona stagione, per quanto abbia fatto tanti gol e tanti assist, per quanto in totale a Sassuolo abbia fatto molto bene, la Juventus semplicemente non può, per quanto mi riguarda. Poi magari, anche qua, mi sento sempre cassano quando dico questa cosa, perché ormai è diventato un meme, ed è entrato nel cervello di tutti un tarlo, che mi logra opinione mia personale. Magari sbaglio, però io non posso credere che la Juventus, che sta cercando questa fantomatica rivoluzione, che sta cambiando tanti giocatori, che vuole innalzare il tasso tecnico, possa passare da silurare Di Bala, senza presentargli nemmeno un'offerta, a trattare Di Maria, che è un campione, è inutile parlare, è inutile girarci intorno, Di Maria è un campione, a dare un ultimatum di Maria giusto, ma per poi passare su Berardi. Cioè, è possibile che non ci siano altre idee? Non ci sono altri profili? Cioè, stessimo parlando di un calciatore che dici, vabbè, non è proprio un campione, non è proprio un fenomeno, però almeno le condizioni economiche sono vantaggiose, lo prendo a parametro zero. No, qui stiamo parlando di un calciatore che non è assolutamente al livello, che non ti alza il livello della Juventus, non è un giocatore di quelli che ti fa la differenza sempre, e costa tanto, e non è nemmeno giovane, perché è un 94. Io non riesco a spiegarmela questa, cioè veramente, io non posso credere che la Juventus possa davvero trattare Berardi, e che possa spendere 40 milioni di euro per Berardi. Davvero, non posso crederlo. E ancora una volta vi dico, mi ricorda terribilmente l'estate in cui trattiamo Suarez. Trattiamo Suarez, andiamo su Geko, e prendiamo Morata. Ancora una volta. Le categorie. Citerò Allegri ancora una volta. E poi ti chiedono cosa sei arrivato a fine anno, secondo, terzo, quarto. Eh, allora non vuoi vincere. Se prendi Berardi, mi dai l'idea che non vuoi vincere. Perché cosa ti aggiunge? Cosa ti aggiunge Berardi? Ma è una follia dal punto di vista sportivo ed economico. A questo punto ti dico, tieni di Bala. Fai un'offerta di Bala. Fai ancora in tempo. Digli, mi sono sbagliato. Guarda, pensavo, eh, ho fatto un errore, mi riprendo di Bala. A parametro zero. Hanno un anno di differenza di Bale e Berardi. La differenza tra di Bale e Berardi è che uno può giocare largo e uno no. Chiedo di Bala di giocare largo. Cioè, se tutto questo discorso è focalizzato su quello, perché non mettiamo a confronto di Bale e Berardi, eh. Cioè, nell'estate in cui perdi di Bala a parametro zero, non puoi prendere Berardi a 30-40 mili di euro. Non esiste. Quindi, davvero, ragazzi, vi giocate tutto, eh. Quest'anno, con questa calcio-mercato, questa sessione calcio-mercato e con la prossima stagione vi giocate tutto. Ragionateci, eh, perché un conto è partire da Pogba di Maria. Un conto è andare a pagare 30-40 milioni se solo per Berardi. Che già, quando si parla di tutti quei soldi per Zagnolo ero un po' titubante. Io non posso crederti. Davvero, non riuscirei a essere... Ma come... il punto è che lo riporta Romeo, lo riporta Gazzetta, lo riporta Sky Sport. Cioè, non è che sono ancora letto da Romeo. No, non è un brutto sogno. Sono sveglio, sono vivo, la Juventus... Vabbè, io non riesco veramente... Banalmente, sembra che non esistano altri giocatori nel mondo in quella posizione. Non ci sono altri giocatori all'infuori dei fenomeni e di quelli che giocano in Italia. Ragazzi, ma avere una rete di scout significa anche individuare profili che magari non sono così conosciuti in questo momento ma che hanno un gran potenziale. Non c'è un giocatore sul mercato europeo che gioca alto a destra che con 40 milioni lo prendi, più forte di Berardi. Non c'è? Ma guardate, delle due prendo Garrett Bale a parametro zero che secondo me non è più un calciatore, che non ha più la mentalità di calciatore. Gli do 10 milioni all'anno col decreto crescita piuttosto che Berardi e ci risparmio. No dai ragazzi, su, per favore, non fatemi arrabbiare subito, di prima mattina. Buongiorno anche a voi.